La riapertura era prevista per il 13 ottobre 2014. A distanza di otto mesi rimane chiuso nel centro di Vasto il mercato coperto di Santa Chiara. Vecchio e non più idoneo alla vendita di generi alimentari, lo storico luogo del commercio al dettaglio è stato oggetto di lavori di ammodernamento, ma ora resta chiuso perché il Comune ha dovuto annullare la gara d'appalto per l'affidamento a privati della gestione della struttura. Al bando di gara ha risposto infatti una sola impresa, che però non è in possesso dei requisiti necessari ad aggiudicarsi l'appalto. Nulla di fatto e dunque i tempi si allungano. L'opposizione ne approfitta per attaccare l'amministrazione e la penna. Il primo tentativo vede il fallimento della esternalizzazione della gestione del mercato, tanto vantata dall'amministrazione comunale, polemizzano i cinque consiglieri comunali del gruppo Vasto 2016. In consiglio comunale, ricordano desiati del prete Sigismondi, Bischia ed Alessandro, affermammo che l'operazione mostrava gravi carenze di carattere programmatico, nel momento in cui l'ipotesi di esternalizzazione si sarebbe potuta ritenere valida, soltanto se configurata in un'ampia visione che puntasse al rilancio del commercio nel centro storico. Inoltre auspicammo un confronto che vedesse direttamente interessati, in una concreta collaborazione pubblico-privato, gli attuali operatori nel mercato, produttori e commercianti.